Oggi parleremo di un tema molto importante che riguarda tutti noi italiani e di cui sicuramente non possiamo purtroppo andar fieri. Sto parlando dell'evasione fiscale e dell'enorme economia sommersa all'interno del nostro paese. Vi preannuncio già che vedremo un sacco di numeri interessanti, come ad esempio a quanto ammonti l'economia sommersa, quali siano le imposte principalmente vase o le città con meno contribuenti. Ma prima di affrontare il tema vi chiediamo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like al video se ancora non l'avete fatto, perché è un modo per voi gratuito di sostenerci e permetterci di mettere sempre più impegno all'interno del nostro lavoro. Tornando a noi, per economia sommersa si intende l'insieme di tutte le attività economiche che non sono direttamente rilevabili. Tra queste rientrano in primo luogo le attività legali che non vengono però dichiarate, in seconda istanza l'economia informale composta da tutte le transazioni di beni o prestazioni senza avere come contropartita un salario e in terzo luogo le attività non legali che violino il codice penale. Prima di parlare di numeri è bene chiarire una questione importante. Infatti se l'evasione si riferisce a del denaro non tracciabile, spesso usato per attività illegali, essa come viene calcolata? Beh, si usa un indicatore chiamato tax gap che calcola la differenza fra il gettito teorico e quello effettivamente versato all'interno delle casse dello Stato. Attenzione però che il tax gap non tiene conto di fenomeni che possono essere più o meno significativi, anche a seconda del periodo storico, come l'inflazione o l'andamento economico di un paese. Quindi per fare dei confronti pluriannali spesso si cerca di andare un po' oltre e si guarda ad esempio il rapporto fra il tax gap e il PIL. Ma adesso parliamo finalmente un po' di numeri. Nel nostro paese, secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'evasione fiscale stimata si avvicina ai 100 miliardi di euro e questo valore rappresenta oltre il 4% del PIL annuale. Ma vediamo nel dettaglio com'è divisa l'evasione, anche perché il valore aggiunto che cerchiamo di portarvi qui sul canale è proprio dato dal mettere insieme informazioni interessanti e utili e farsi una panoramica completa delle diverse questioni. La maggior parte dell'evasione è riconducibile proprio all'evasione dei tributi, come ad esempio l'IRPEF, di cui parleremo tra poco, mentre solo una piccola parte, ovvero 12 miliardi e mezzo, fanno riferimento a contributi non versati. Guardate poi questo grafico del 2019, ma purtroppo ancora attuale. Si vede subito come tra le imposte ve ne siano due che risultano maggiormente soggette ad evasione rispetto alle altre. Ci stiamo riferendo all'IRPEF e all'IVA, la cui evasione ammonta rispettivamente a 32 e 27 miliardi di euro. Ma chi è quindi che evade? Beh, i lavoratori dipendenti fanno molta fatica ad evadere per esempio l'IRPEF, essendo questa versata direttamente dall'azienda. Secondo il Sole24ore, la maggior parte dell'evasione dell'IRPEF è riconducibile ai lavoratori autonomi. E lo possiamo vedere chiaramente anche nel grafico. Ci sono anche singoli mestieri che evadono molto più di altri, quindi ci sono anche delle forti differenze settoriali. Notate anche un'altra cosa, ad esempio l'evasione sul canone Rai sembra piuttosto contenuta, ma non è sempre stato così. Non vogliamo entrare nel merito dell'idea politica dietro al canone, ma valutare l'effetto di decisioni in merito all'evasione. Nel 2016 infatti il canone Rai è stato reso obbligatorio ed inserito in automatico all'interno delle bollette per tutti coloro che abbiano un contratto di fornitura di energia elettrica. E questo ha permesso di ridurre la percentuale di evasori passando dal 27 a meno del 5%. Come probabilmente molti di voi immagineranno, la diffusione di queste pratiche illecite non è uguale in tutto il paese. Secondo l'Agenzia delle Entrate, se nel Nord si parla di cifre ancora contenute, anche se non proprio piccole, scendendo questi valori aumentano fino a raggiungere quasi il 14-19% del valore aggiunto regionale rispettivamente nel centro e nel sud Italia. In particolare dagli ultimi dati relativi al 2019 emerge come le regioni che abbiano evaso di più siano la Calabria e la Campania, mentre quelle meno soggette a questo fenomeno sono state il Friuli e la Lombardia. E sapete qual è la città col numero più alto di evasori? Secondo l'Istat è Crotone, con il 43,5% di mancati contribuenti, seguita da Agrigento con il 41% e in seguito da Cosenza. Tra le città più virtuose abbiamo Milano, dove la percentuale scende al 12,6%, ma tenete anche presente che Milano ha un'economia molto più grande. Bisogna considerare non solo i valori percentuali, ma anche i valori assoluti. Sappiamo che purtroppo è un fenomeno che tocca il nostro paese da decenni, ma negli ultimi anni la situazione è migliorata oppure è peggiorata. Beh, guardando questo grafico notiamo che il trend è leggermente in calo. Infatti, fino a pochi anni fa la cifra era sempre maggiore ai 100 miliardi di euro. Ma quali mosse sono state intraprese per contrastare questo fenomeno? Tra le varie riforme troviamo l'obbligo di comunicare mensilmente all'Unità di Informazione Finanziaria i movimenti in contante superiori ai 5.000 euro. È stato abolito il segreto bancario e introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica, oltre allo split payment, ovvero il versamento dell'IVA direttamente dal cliente allo Stato. Ci sono anche alcune mosse in programma, ma che non hanno ancora trovato attuazione. Ad esempio, si vuole migliorare l'efficienza dell'agenzia delle entrate e sfruttare le nuove tecnologie per controlli mirati, prevalentemente migliorando gli algoritmi esistenti come per esempio VERA, l'intelligenza artificiale che permette la verifica dei rapporti finanziari tramite l'incrocio delle banche dati dei contribuenti. A questo punto la domanda sorge spontanea. Come è messa l'Italia rispetto al resto d'Europa? Visto che ogni paese ha imposte e metodi di calcolo dell'evasione fiscale diversi, per confrontare i vari paesi si guarda l'evasione dell'IVA. Ed ecco che qui tocchiamo un tasto dolente. Infatti ci posizioniamo come il quinto paese per evasione, con il 21,3% dell'IVA evasa. Ci superano solo Romania, Lituania, Malta e Lettonia. Se invece guardiamo paesi con un'economia più simile alla nostra vediamo come il problema sia molto più accentuato in Italia. Spagna, Francia e Germania hanno un tasso di evasione dell'IVA rispettivamente del 6,9%, 7,4% e 9%. Arrivate a questo punto dopo aver visto insieme una carrellata di dati non possiamo che chiedervi quale sia il vostro punto di vista. L'altro nostro siamo ben consapevoli di quanto sia grande il problema e a volte pare addirittura insormontabile. Quello che spesso accade è che le persone decidono di evadere perché le imposte richieste sono alte, ma così si apre un circolo vizioso perché anche a causa proprio di questi flussi mancanti è sicuramente più difficile avere margine per ridurre la pressione fiscale. Il problema però è che se tutti facessimo questo ragionamento non avremmo un gran futuro come paese e tutto lo sforzo sarebbe sulle spalle di pochi come nonni, genitori o amici che stanno cercando di fare la cosa più giusta per il bene dell'Italia. Diteci la vostra nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Ingegneri in Borsa.